Arriva allora Rosi che affonda da quella parte, la mette in mezzo, una deviazione, poi il destro, deviato da Paletta, ci ha provato proprio Trotta, Deulofeu a spazzare via, Crotone che resta lì, pallone in area, Trotta vince un rimpallo, Trotta! Marcello Trotta, il Crotone davanti, ha segnato il numero 29 per il terzo gol in campionato, ci aveva provato qualche istante fa, lascia rimbalzare il pallone e scarica il sinistro alle spalle di Donnarumma, Crotone davanti all'uscida, il gol di Marcello Trotta.